Ciao ragazzi, benvenuti a Vilnius, ieri sono arrivato, ho già fatto un giro della città e la città è bellissima, la Lituania è un paese stupendo. Oggi vi faccio vedere in dettaglio cosa c'è da vedere, spero che piaccia quanto è piaciuta a me perché la prima persona è stata veramente buona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanti posti bellissimi dove andare a mangiare, tanta bella gente in giro, ma il viaggio continua e adesso ci troviamo a Riga. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.